Sei una persona organizzata e hai buona memoria? Ti piace il lavoro d'ufficio e l'ambito medico? Apprezzi il lavoro di squadra e il contatto con i clienti? Allora ti invitiamo a scoprire la professione di assistente di farmacia. Gli assistenti e le assistenti di farmacia si occupano soprattutto sotto la responsabilità del farmacista, della consulenza e della vendita ai clienti. Gestiscono le scorte e la disposizione delle merci, prodotti farmaceutici, dietetici, cosmetici per l'igiene o di profumeria. Svolgono anche compiti amministrativi e attività di laboratorio come preparare tisane, sciroppi e pomate. Ho scelto questa professione perché è in ambito medico e mi interessava. Grazie agli stage ho capito che mi piaceva. Mi piace prendermi cura del cliente, anche se non siamo in ospedale ma in farmacia. Si può parlare con i clienti ed è interessante. Ho scelto questa professione perché il settore medico mi ha sempre incuriosita, in particolare i medicinali, così posso capire. Mi ha sempre incuriosita l'effetto dei medicinali e il lavoro in laboratorio, per esempio, per realizzare vari preparati. Prepariamo pomate, tè, tisane. È anche pratico, se si ha un problemino o qualcuno in famiglia non sta bene, si può sempre dare un consiglio. È anche per questo che ho scelto questa professione. E poi si acquisiscono già le basi in ambito sanitario, quindi grazie a queste conoscenze poi, volendo, si può andare oltre. Ci si può iscrivere alle scuole universitarie e si possono aprire varie porte, nutrizione, dietetica. Poi c'è anche altro, infermiere. Di questa professione adoro la possibilità di creare legami con le persone, soprattutto anziane, che non hanno più famiglia o che sono sole. Si sfogano con noi, un po' come si farebbe dallo psicologo. Ci raccontano la loro vita e questo fa bene anche a noi, perché se ne vanno contente. Siamo in una piccola farmacia, ci sono più o meno una quindicina di persone. Sette assistenti di farmacia, tra cui io, quattro farmacisti, di cui uno in stage e due apprendisti. Siamo nella Farmacie du Galicien, una farmacia indipendente con una decina di impiegati. Tre farmacisti, sei assistenti e due apprendisti, tra cui io. Buongiorno. Buongiorno, ecco la prescrizione. Grazie, è per lei? Di solito davanti c'è l'accoglienza clienti, dove ci si occupa di vendita, consulenza e vendita su ricetta. Il cliente arriva, ci dà la ricetta, la trattiamo e la registriamo nel computer. Prima però la facciamo controllare al farmacista. Le hanno spiegato bene come fare? No. Spieghiamo ai clienti come prendere i medicinali. Poi in pratica deve ingoiare l'aria che rimane. Poi c'è tutta la parte amministrativa. Più che altro l'inoltro delle ricette, il controllo, l'invio alle assicurazioni. La persona che si occupa del controllo deve essere veramente precisa, perché deve controllare il medico, la data, i medicinali consegnati e quelli indicati sulla ricetta. Le posologie, i rinnovi, se ci sono. Tutta una serie di piccole cose a cui si deve fare molta attenzione. E se tutto è ok, è la persona al banco che poi spedisce la ricetta. Diceva che ha la pelle un po' secca, giusto? E poi ci sono le persone che vengono in farmacia per chiedere consiglio. Cerco di fare domande utili per capire cosa serve. Poi riassumo per essere sicura di aver capito bene e scelgo un trattamento adeguato. Se serve, chiedo al farmacista. Buona giornata! Grazie. Abbiamo portapillole settimanali che prepariamo per i clienti che hanno difficoltà a prendere i medicinali. Ma prepariamo i portapillole settimanali anche per i residenti di case di cura o istituti. E poi offriamo anche parecchie prestazioni farmaceutiche. Sono prestazioni mediche per i clienti che vengono in farmacia per un controllo, come il cardio-check. Controlliamo la glicemia e il colesterolo e misuriamo la pressione. E vacciniamo. Più che altro contro il covid o contro le zecche. Controlliamo il libretto delle vaccinazioni e vediamo se è aggiornato. In laboratorio diamo una mano ai farmacisti. Facciamo anche dei prodotti da soli, delle preparazioni come il riempimento di tisane, creme, tubetti. Quando arriva un prodotto ordinato, per poterlo consegnare, facciamo controllare tutto dal farmacista. All'arrivo del corriere controlliamo insieme la lista delle consegne, verifichiamo che ci sia tutto, che sia in ordine e pronto a partire. Ci occupiamo anche degli ordini. Il fornitore consegna i prodotti per i clienti e bisogna smistarli, stoccarli, controllare le quantità e mettere le date di scadenza. Ogni assistente ha un compito, ordinare i medicinali, controllare che le scorte siano aggiornate, verificare le date di scadenza, riordinare i prodotti. Mi occupo anche del marketing. Incontro i fornitori e gestisco parecchie marche di prodotti dermocosmetici insieme a un'altra collega. Ci sono molti prodotti in vetrina e anche questo è compito mio. Gli orari sono piuttosto regolari e si lavora anche il sabato. Si sta spesso in piedi e difficilmente si rimani seduti a lungo. Ci sono norme igieniche per le stanze di consulenza con i clienti. Di certo bisogna disinfettare tutto prima e dopo, indossare guadagnolo, indossare guadagnolo, mascherine, disinfettarsi bene le mani. E quando si arriva al mattino, per prima cosa, si disinfettano il pc, telefoni e il retro. Buongiorno, buongiorno. Come va? Bene, grazie. Per questa professione il contatto con i clienti è fondamentale. Oltre a una buona intesa con i colleghi, si lavora tutto il giorno fianco a fianco. Va bene così, sì. Serve una buona memoria, visto che i medicinali e i trattamenti sono parecchi. Bisogna sapersi organizzare, saper fare più cose nello stesso tempo. E avere interesse per i medicinali. Buongiorno. Bisogna essere empatici, avere piacere a stare con gli altri, dedicare loro del tempo per spiegare correttamente. I clienti contano su di noi per sapere come usare i medicinali. Se lo si fa male è un problema. Le serve lo scontrino? Grazie, sì. Si imparano molte cose, soprattutto in campo medico. Mi piace molto anche poter aiutare. Le persone vengono da noi, fanno domande, ed è davvero un piacere per me poterle aiutare. Au revoir, merci. La clientela non è sempre facile. Bisogna comunque pensare che se vengono in farmacia è perché hanno un problema. C'è chi è malato e quindi non è proprio di buon umore. Ma è anche necessario gestirli, essere empatici, farli capire che sono nel posto giusto. Sono pochi gli svantaggi, ma la professione è poco valorizzata. Facciamo e sappiamo molte cose e penso che dovrebbe essere un po' più valorizzata. Mi ricordo dei cassetti nel retro. Ora per questo c'è un robot, che è molto più pratico. Immagazzina da solo i medicamenti nel giusto ordine. E poi, grossa novità, ora possiamo vaccinare in farmacia. Prima era molto più femminile, ma ora è più bilanciato. Da noi lavorano quattro uomini. Adoro l'aspetto del primo soccorso. I clienti contano su di noi proprio per questo. La gente si fida di noi più di quanto si creda. Arrivano con la ricetta senza saperne niente. E tocca a noi spiegare tutto. All'inizio pensavo di non essere in grado. Avevo difficoltà a parlare con le persone. Non osavo neanche dire buongiorno al capo. Poi, con il tempo, ho imparato. E adoro così tanto il mio lavoro che sono diventata una chiacchierona. All'inizio pensavamo da varanda perché si f folgabile neanche se fosse preferar. Sof ponto aspetti. Sofoi a noi perchè ho imparato. Quindi quindi c'è altro Feelלקio All'inizio pensavo che sia pagante.